Giochiamo Ecco fatto Non so l'inglese Guardo Ok Ah così battaglia navale Non va Non va Ah ok Ah capito Appendi il pezzo Devo mettere i pezzi Di sopra lì Ah questo è pulito Pulito Eh si non va Non capisco come si gioca sto gioco Bu Settighe Non si muove Prendiamo con un vaso Il vaso non fa niente Ah con ti No Ho sbagliato Per girarla Eh Ok Ok Quando a girarla SD no SD avanti Go Ah forse ho capito Dobbiamo mettere questo Ok Ok Li facciamo Ora ho capito La Per passare e fare l'altro schema Ancora Finale ho completato Ah qua Ah questi sono tutti schemi Ok Ho capito Do Do Ah Li facciamo Che vuoi sbagliare adesso Forse ho capito Così Completato Oh sto riuscendo a capire Vediamo un po' Facciamo un alto Vediamo 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 Eccolo va Ah giusto Prossimo Allora lancio Così Doh Questa non va bene qua Vogliamo così Ah una volta messo questo non si può un fiume mettere Niente Aggiungiamo No ma si chiude il cassetto Forse comunque Vediamo No Ma poi non va da quella Mettone indietro No No Posso mettere tutti e due qua No Non si chiude il cassetto No 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 Oh, proviamo così, ma mi sarebbe sbagliato, perché va in parte. Oh, proviamo così. Oh, proviamo. Oh, porca miseria. No. Ah, forse è così. Ah, ma sicuro il cassetto. Ah, ma sicuro il cassetto. Ah, ma sicuro. Ah, ma sicuro il cassetto. Ah, ma sicuro il cassetto. Ah, ma sicuro il cassetto.